Ho detto Michele Polo che ringrazio per averci ospitato qui in Bocconia, ringrazio anche l'onora per aver permesso questo evento, oltre a ringraziare Isaia Sales, Simona Melori e il professor dalla Chiesa. Come Wikimafia questo è il secondo di uno dei incontri che faremo quest'anno di approfondimento sulle storie della lotta e della ricerca sul fenomeno mafioso, il prossimo in calendario è quello con Don Giacomo Panizza sulla pedagogia dell'antimafia, lui vive alla mezzia terme e quindi si occupa di quello, oggi siamo voluti occupare di un tema che è poco dibattuto nell'università, ovvero quello del rapporto tra mafie ed economia, quindi per entrare subito nel libro della discussione lascio la parola a Eleonora così entriamo e poi così abbiamo anche più tempo per le domande dopo, anche da parte vostra. Ecco, taglio tutti i ringraziamenti, dateli come fatti e inizio questo dibattito, discussione e confronto, questo workshop come l'abbiamo chiamato sulle mafie nell'economia globale. Il rapporto tra mafia ed economia è un rapporto antico, si può dire che sia un tratto identificativo dei fenomeni criminali di tipo mafioso. Quel che appare nuovo oggi però è il confine quantitativo e qualitativo di questa relazione. Le indagini più recenti hanno evidenziato rapporti crescenti per intensità tra economia lecita ed economia illecita, dove il mafioso è parso operare con la medesima disinvoltura in entrambi i campi, forte di un modus operandi in grado di garantire alle imprese mafiose e a quelle partecipate dai mafiosi valore aggiunto e competitività. Ancora in una società globalizzata in cui le barriere dei mercati vengono meno, le organizzazioni criminali hanno mostrato di sapersi muovere come moderne multinazionali, anche servendosi di professionisti. A queste si aggiungono le significative relazioni politico-amministrative che evidenziano rapporti con la criminalità organizzata sempre più complessi ed elaborati. Si pensa al caso del Parco dei Nebrodi in Sicilia, domani avremo ospite in Bocconi Giuseppe Antoci, Presidente del Parco, dove per anni famiglie mafiose hanno ottenuto, grazie ad amministratori corrotti e compiacenti, concessioni di terreni del demanio e finanziamenti europei. Abbiamo il caso Emilia in cui sta emergendo un ruolo determinante delle banche, anche se compiacenti nella gestione dei patrimoni dei mafiosi. E ancora parla anche dei soldi della criminalità organizzata la nuova inchiesta giornalistica internazionale denominata Paradise Paper, firmata dallo stesso network dei Panama Papers, le carte segrete dello studio Mossack Fonseca che nel 2016 hanno per la prima volta svelato come potenti del mondo, criminali compresi, occultano i propri patrimoni nei paradisi fiscali e societari. In questa convergenza di interessi emerge in tutta la sua ambiguità la dimensione economica delle mafie e quindi mi piacerebbe chiedere a Simona Melorio, criminologa dell'Università degli Studi del Molise, se possiamo parlare di ambivalenza delle mafie in economia e sottolineare in questo quadro di convergenza un po' a ruolo paradossale che le mafie giocano nel campo dell'economia e dei mercati.